Ma quindi, è meglio o peggio? Vale la pena prenderlo, anche se c'è già Seven Wonders Duel, oggi parliamo di questo e di tantissima roba. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici, semplici e curiosi, noi siamo i giullari e venerdì, siamo qui con un nuovo diario e con il nostro nuovo diario alle spalle. Sì, finalmente ve l'abbiamo potuto dire, ve l'abbiamo annunciato, grazie mille a tutti quanti per la meravigliosa accoglienza che gli avete riservato. Ricordiamo tutti quanti che se non sapete di che cosa stiamo parlando, beh, peggio per voi, c'è un video qua sul canale dove vi parliamo proprio di questo progetto, di questo diario del giocatore da tavolo che speriamo vi accompagni di qua a tutto quanto il 2025, nel caso sarà anche un ottimo regalo di Natale, perché no? Quindi potrete anche condividerlo con i vostri amici, compagni di vita, compagni di gioco, insomma, tutte quante le info lì, tutte quante le info qua sotto in descrizione e davvero grazie mille. Grazie davvero, per la fiducia. Sì, perché come vi abbiamo già anticipato la scorsa settimana, vi ricordiamo che il 19 e 20 ottobre saremo al Salso Ludix, che quest'anno arriva alla sua terza edizione, questa manifestazione, questo evento dedicato al gioco, al divertimento, allo stare assieme, tantissime associazioni che fanno giocare, tantissimi creator, autori di giochi da tavolo, ci sono anche dei panel, ci sono dei workshop e ci sarà anche la possibilità di giocare assieme a noi. Quindi se volete vi lasciamo qua sotto in descrizione il link per il sito del Salso Ludix, tra l'altro lo fanno in un posto magnifico, andate sul sito per vedere la location del Palazzo dei Congressi, che è qualcosa di meraviglioso, facessero così tutti gli eventi, sarebbe qualcosa di magnifico secondo me. Ma andate a vedere appunto il link che vi lasciamo anche per potervi prenotare per giocare con noi, perché faremo un sacco di sessioni di gioco, ci sarà comunque la possibilità di giocare con noi al di fuori delle sessioni, ma se volete essere sicuri di poter giocare con noi a Fairy Ring, a Mesos o a Far Away, trovate il link qua sotto, così vi potete già prenotare sin d'ora e essere certi di giocare assieme a noi. E poi le sedie sono di una comodità stratosferica in quel posto, è meraviglioso, non vedo l'ora di sedermi su quelle sedie magnifiche. Di qualità. E iniziamo a parlare col gioco sulla bocca di tutti, ovvero il Signore degli Anelli, Dual for Middle... Partiamo col gioco che è sulla bocca di tutti, ovvero il Signore degli Anelli, Dual for Middle Heart, duello per la terra di mezzo, questo spin-off di Seven Wonders Duel che ne riprende le meccaniche centrali, ne riprende l'idea di avere più condizioni di vittoria, anche immediate, che fanno terminare la partita improvvisamente se qualcuno riesce a raggiungerle, ma declinato all'interno dell'universo del Signore degli Anelli. Ci siamo resi conto della grande attesa attorno a questo titolo per la quantità di messaggi che ci avete mandato quando abbiamo messo i primi post, le prime storie che lo stavamo giocando, e anche per il fatto che anche tutti questi non i Patreon ci sono stati questa settimana, secondo noi è perché ai Patreon abbiamo dato in anteprima il gameplay, già ormai da più di una settimana ce l'hanno a disposizione, e voi lo vedrete tra un po', e secondo me questo è stato proprio indice anche della grande interesse, grande attesa che c'è attorno a questo titolo che noi per primi ci domandavamo, ma se ho già Seven Wonders Duel che è un capolavoro, vale la pena avere anche questo? Che lavoro avranno fatto lì sopra? Tenterò di rispondervi io, allora chi ha già Seven Wonders Duel va bene, bellissimo gioco, ben fatto, stupendo, ci siamo affezionati proprio al nostro cuore, ha senso avere anche questo in un solo doppione? La mia risposta è ha senso, ha senso perché a mio parere per chi ha già Seven Wonders Duel questo qua lo andrà a sostituire, senza se e senza ma, perché ha facilitato alcune cose, quindi ha reso più facili alcuni passaggi del gioco, ma allo stesso tempo ha aggiunto delle cose in più che lo rendono più completo. La base del gioco, come dicevamo, è la stessa. Si giocheranno tre ere, che qua saranno i tre capitoli della storia, creando una piramide di carte, alcune coperte, alcune scoperte. Potremmo prendere solo le carte libere, eventualmente rivelando le carte che vengono liberate dopo che abbiamo preso, e abbiamo le carte risorse che ci serviranno per poter giocare ulteriori carte. Ma prima differenza che c'è, e prima snellimento che hanno fatto del gioco, è che se io non ho una risorsa, la pago una moneta. A prescindere da quali risorse produce il mio avversario, a prescindere da che tipologia di risorsa è, tutte le carte gialle che danno gli sconti, che danno le concatenazioni particolari sugli sconti delle merci, spariscono. Ci sono le carte gialle che danno semplicemente soldi, e sparisce anche la questione che io guadagno più soldi scartando le carte, stante quante sono le carte gialle che ho. Quindi anche da questo punto di vista qua lo hanno molto semplificato. Dove sono andati a lavorare nel migliorarlo, secondo noi, e l'aver rimosso completamente i punti vittoria, aver trasformato quel pezzo di gioco nella terza condizione di vittoria istantanea, che è quella del controllo della mappa, dove noi andremo a schierare le nostre unità, le andremo a muovere ed eventualmente combattere in modo semplicissimo. Un'unità contro un'altra vengono rimosse entrambe, e chi ha almeno un suo pezzo in ciascuna regione vince immediatamente la partita. Altra modifica che è stata fatta, secondo me, molto bella, oltre alla caccia dell'anello, che trasforma il tracciato militare, dove la pedina va avanti e indietro in questa corsa, dove entrambe le pedine avanzano e entrambe devono fare lo stesso numero di passi, ottenendo gli stessi bonus negli stessi momenti, e quindi chi prende prima le carte dell'anello riuscirà a vincere così, ma anche quella che era la vittoria scientifica, ovvero il raccogliere i simboli diversi, qua rimane uguale con le alleanze dei popoli, ma quello che hanno cambiato è il modo in cui noi otteniamo i vecchi gettoni scienza, che qua sono i gettoni delle alleanze con i popoli, perché sono tarati in modo da uscire in un dato ordine, dove i poteri più interessanti a inizio partita usciranno sicuramente all'inizio della partita, e i poteri più interessanti alla fine della partita usciranno sicuramente alla fine della partita, quindi rimuove quella casualità che rendeva anche la vittoria scientifica più vincolata ai tassellini che casualmente uscivano. Qua anche ci sarà un'uscita casuale, non sei certo di cosa ci sarà in ogni partita, e la variabilità rimane allo stesso modo, ma li hanno fatti uscire in modo molto più ragionato. Hanno preso tutta la meraviglia di Seven Wonders Duel, hanno preso i 14, 10, 12 anni da quando è uscito, tantissimi anni comunque da cui è uscito Seven Wonders Duel, e l'hanno reso migliore, senza aggiungere niente, anzi pulendo dove andava pulito e sistemando dove andava sistemato. Altra questione che è sorta riguarda l'ambientazione, quindi se io non conosco il Signore degli Anelli, ha senso avere questo gioco? Oppure se io conosco benissimo il Signore degli Anelli, ritrovo la magia, l'atmosfera del Signore degli Anelli? Allora andrò a entrambe le domande. Allora, se tu non conosci il Signore degli Anelli, cioè sì e no, è la risposta alle domande. Se tu non conosci il Signore degli Anelli, il gioco funziona perfettamente, perché il gioco funziona proprio di base, nelle meccaniche, nelle cose che devi fare, nelle scelte che hai, quindi per due giocatori, quindi funziona benissimo. Chi adora il Signore degli Anelli, diciamo che ha in collezione un qualcosa in più riguardante il Signore degli Anelli, poi sì, ci sono le città, i nomi delle città, i luoghi, i personaggi, sono quelli del Signore degli Anelli. Però diciamo che l'ambientazione non è quello che vai a cercare prendendo questo gioco. Esatto, piuttosto lì la guerra dell'anello, il gioco di carta, insomma lì allora avete anche tanto di più l'ambientazione. Qua diciamo l'ambientazione sì, un po' pretestuosa, ma secondo me comunque ci sta. Soprattutto sulla Corsa dell'Anello, stavo dietro. Esatto, la Corsa dell'Anello, con i Nazgul dietro che inseguono Frodo e Semmi. Studiati, il movimento del tracciato. No, no, quello è bello, funziona bene, ci sono comunque le carte rosse che poi rimandano alle battaglie del Signore degli Anelli, vi lascio anche uno short qua se non l'avevate ancora notato. Insomma, tante cosine comunque che sono messe lì, certo un po' più per flavor, poteva essere sempre la stessa ambientazione delle meraviglie del mondo antico, sì, però comunque diciamo ci sta, cioè anche l'idea che i popoli liberi cercano l'appoggio di tutte quante le razze, mentre Sauron cerca, ecco gli anelli, di soggiogarle tutte quante. Comunque in parte, diciamo, si sente e l'ambientazione comunque ci sta. Non posso portare l'anello per voi, ma posso portare voi! Come avete capito, a noi il gioco è piaciuto davvero tanto. Ci avete anche detto, ah ma allora se vedete se Wonder's World questo finisce nelle top 10. Non lo so onestamente su questo aspetto, perché comunque... È un gioco che già c'è, cioè non è un... Esatto, perché comunque... È un rimodernamento, un... Un... Dare freschezza a qualcosa che c'è già. Che è comunque un capo lavorato. Non esistesse se Wonder's 2 e senza un bravi dubbio sì. Visto che se Wonder's 2 ne esiste, forse no, ma questo è un altro discorso molto più mio, quel che è certo è che se chi inizia a giocare adesso dice, ah ma qual è? Mi consigliate un gioco da due, qual è il più bel gioco da due? Questa versione qua del Signore degli Anelli, andando anche a semplificare alcune cose, migliorarne altre, secondo me diventa la nuova scelta iniziale da cui partire. È anche vero che Se Wonder's 2 però ha le espansioni. A Pantheon, a Agora, nulla di ciò che c'è in Pantheon o c'è in Agora, si ritrova in nessun modo all'interno di questo Signore degli Anelli Dual for Middleheart e non c'entra nulla. E quindi, per me, rimangono comunque in collezione entrambi, perché comunque il base, chiamiamolo così, dovessi scegliere probabilmente giocherei solo più quello del Signore degli Anelli. Ma riprendere Se Wonder's 2 con una delle due espansioni o anche tutti e due, allora in quel caso comunque ha tutta quanta la sua ragione di esistere e continuare ad esistere ed essere giocato senza dubbio. Abbiamo anche giocato a Dracula contro Van Helsing, altro gioco solo per due giocatori che si confrontano nuovamente bene e male l'uno contro l'altro. Dracula avrà il suo obiettivo di cercare di trasformare in vampiri tutti quanti gli abitanti di un quartiere della città, mentre Van Helsing deve cercare di sconfiggerlo, togliergli tutti quanti i punti vita prima che Dracula sia riuscito nel suo intento. Facciamoci l'inganno della cadrega. Bravo Gino! Il gioco è molto semplice, noi pescheremo cinque carte che avremo nel display davanti a noi e ogni posizione di queste carte da sinistra a destra si rifà a uno dei quartieri e quel quartiere lo vincerà facendo una trasformazione in vampiro o facendo una ferita a Dracula il giocatore che avrà la carta di valore più alto oppure con il colore diciamo che in quel momento è il dominante. Sì, però se tu hai un 1 rosso e un 8 blu vinci tu con l'1 rosso. Se il rosso è il dominante. Eh certo. Quindi guardi il colore. Però il colore lo guardi solo nel caso sia quello dominante. Per gli altri il colore non lo guardi lo guardi solo in parità. Se è quello dominante vinci un altro dominante. Allora, aspetta, vabbè, non si è capito niente, ho capito. Nel nostro turno noi pescheremo una carta e sceglieremo se scartarla oppure se sostituirla a una di quelle che abbiamo davanti. In quel caso scarteremo la carta già in nostro possesso ed è la carta scartata e ne possiamo attivare l'abilità. Le abilità sono tanto più belle quanto i numeri sono alti perché chiaramente col numero alto ho più probabilità di vincere anche se il colore dominante comunque è la prima cosa che va a spareggiare quindi se è del colore che in quel momento è dominante mi interesserà tenerle e con queste attivazioni scambio le carte scambio le carte col mio avversario obbligo il mio avversario a rivelarne una cambio il colore cambio qual è il colore dominante in quel caso vado comunque a sballare tutto quanto ci rimpalliamo così i turni fino a che non ci sono almeno sei carte negli scarti quindi almeno finché non abbiamo giocato un po' allora da quel momento un giocatore può chiamare la fine del turno e l'altro può ancora fare la sua azione e poi si va a vedere chi ha vinto nei singoli quartieri alle prime partite c'è un po' l'impressione che Van Helsing ce l'abbia un po' più semplice rispetto a Dracula perché a Van Helsing basta fare le ferite mentre Dracula deve avere trasformato diciamo gli abitanti in cioè i vampirizzati ecco tutti nello stesso quartiere e quindi sembra che appunto dovendosi concentrare su dei quartieri ben specifici Dracula sia un po' più penalizzato in realtà nì perché sì è vero le prime partite magari devi anche cercare di capire quando è meglio scartare quella carta anche se è alta anche se del colore dominante ma per riuscire a fare quell'azione quando lasciare un po' più largo l'avversario quindi ci sono tante cosine sì che prendo la carta scarto la carta e gioco la carta ma in tutto questo ci sono un sacco di cose da tenere sott'occhio a me il gioco comunque è piaciuto tantissimo ma proprio tanto tanto si è giocato dalla parte di Van Helsing è giocato dalla parte di Dracula soprattutto perché dopo un po' di partite quindi quando prendi confidenza col gioco fino all'ultima carta non è detto perché magari tu dici ah devo solo fargli più una ferita Dracula lui deve ancora girarne i due o nel giro magari di niente la situazione è completamente ribaltata quindi poi il gioco è veloce è veramente bello cioè mi è piaciuto molto è molto figo il fatto che la tensione rimanga alta sempre e soprattutto quando arrivi all'ultimo round dove magari a Dracula gli manca un ultimo personaggio da vampirizzare Van Helsing basta fargli solo più quelle due ferite per vincere ma anche se non avviene né l'una né l'altra condizione comunque Dracula vince se passa troppo tempo Van Helsing non è riuscito a sconfiggerlo quindi in realtà ribilancia un pochino lo svantaggio comunque che Dracula ha e davvero te la giochi all'ultime due tre carte c'è la possibilità poi scartando l'otto la carta più forte se ci sono già almeno sei carte negli scarti di interrompere immediatamente il turno quindi in quel caso anche lì mi rinuncio a questa carta che verosimilmente mi fa vincere questo quartiere ma impedisco all'altro di fare l'ultima azione perché magari io sono messo benissimo dico va bene la fermiamo qui l'altro fa un'ultima azione con il set che gli permette di cambiare la dominanza dei colori e tutti i miei piani sono andati a farsi friggere la tensione è veramente veramente bella decidere quando chiudere chiudere in fretta aspettare un po' di più cambia davvero tanto e poi riveli ste carte magari qualcosa già lo sai perché hai già obbligato l'altro a rivelare o sei stato obbligato tu a rivelare però quella carta lì la metti giù vedi che c'è solo quel punticino di differenza le avessi messe al contrario cambiava tutto quanto ti va venire voglia di fare ancora ancora partite a noi è proprio piaciuto poi è piccolo compatto i materiali però sono molto belli le illustrazioni e Weberson Santiago quello che ha fatto anche The Bloody Inn secondo me su questo genere di giochi con queste ambientazioni un po' dark un po' horrorifiche un po' sanguinose ci sta da dio è veramente veramente proprio bellino ci è proprio piaciuto piaciuto parecchio lo vedi quel buco lì stanotte lo riempiamo abbiamo anche giocato Let's Go To Japan gioco in cui noi dobbiamo programmare il nostro viaggio in Giappone dovremo pescare delle carte che poi passeranno tra i giocatori queste carte sono le attività che noi decideremo di fare nei giorni dal lunedì fino alla domenica metteremo davanti a noi queste carte cercando di ottimizzare i punti che ci daranno perché ogni carta ci darà dei simboli e grazie a questi simboli faremo dei punti in base a quella che avremo scelto essere l'attività principale di quella giornata ovvero la carta delle tre in ciascun giorno che sarà l'ultima della pila quella visibile che ci darà anche dei punti bonus devo fare una premessa su questo gioco premetto il fatto che mi è piaciuto il gioco è piacevole funziona è facile nel regolamento e quindi è un bel pacchettino però diciamo che i giocatori lo fanno anche tanto il gioco perché poi su ogni carta su ogni carta di carte ce ne sono tante c'è scritto dove tu vai con la descrizione del tempio del ristorante della strada di quel determinato negozio quindi ogni carta è ambientata quindi se poi il gioco vuole che tu ti programmi il tuo viaggio poi nella seconda fase quindi nel conteggio vai a vedere come è stato il tuo viaggio cosa hai fatto cambia tantissimo se tu dici allora qua faccio questi punti qua 5 e questo sono andata qua faccio 8 punti lunedì 10 punti cambia molto da lunedì sono andata alle terme ho preso il treno per spostarmi a Kyoto per andare a mangiare il cibo di strada poi sono ritornata a Tokyo e abbiamo notato che cambia tanto quindi se uno lo prende proprio sul prendo la carta gioco la carta prendo il simbolo e faccio punteggio che è quello che fa il gioco l'esperienza di gioco cambia se tu narri un po' quello che è stato e narrandolo è anche molto divertente perché ti capita veramente che tu hai preso 5 ore di treno per andare a mangiarti il cibo di strada e poi tornare indietro e andare magari di nuovo al ristorante perché quello che hai mangiato non ti ha soddisfatto le 5 ore di treno per il ritorno ti hanno messo fame questa cosa secondo me può incidere tanto sul far sì che il gioco piaccia o meno sono giapponese Vale ha già detto tutto è un gioco dove l'ambientazione fa tanto se vi piace il tema giapponese vi piacerà un sacco se avete già fatto viaggi in Giappone se il viaggio in Giappone è il viaggio della vostra vita senza ombra di dubbio gli troverete qualcosa di più dentro questo gioco che a livello di meccanica funziona fa il suo è molto introduttivo molto semplice tutto starà nel combinare questi simboli nel modo giusto è un po' un gioco di incastri dove devo cercare di viaggiare sì tra le due città ma farlo con cognizione di causa cercare di combinare i simboli giusti nel giorno giusto e ottimizzare i punti che riuscirò ad ottenere perché poi nella risoluzione finale quindi nel conteggio dei punti io farò punti per simboli che ho davanti a me ma solo nei giorni che ho già vissuto nei giorni in cui ho già viaggiato quindi l'ordine in cui giocheremo queste carte è molto molto importante poi funziona bene le carte poi passando tra i giocatori saranno sempre quelle carte che nessuno vuole tutti continuano a scartarsele perché magari in quella partita sono un pochino meno utili ma tantissimo fanno i giocatori va proprio quasi un po' ruolato nella parte finale dove si va a vedere quanti punti si sono fatti perché se lo si gioca meramente guardando le meccaniche anche l'interazione comunque è pochina cioè perde tanto ma l'interazione è poca perché tu programmi il tuo viaggio no no ma infatti ma ha senso ma ha senso per carità ci sta che non ci sia assolutamente sì ma infatti il suo lo fa lo fa tutto bene lo fa tutto ben ben ordinato però se non ti cali nell'ambientazione diventa un giochino se invece lo giochi ambientandolo è piacevole e abbiamo anche giocato a hero altro gioco di incastri in cui però dobbiamo creare la nostra gilda un gioco velocissimo nel quale noi pescheremo carte che pagando giocheremo davanti a noi in una griglia 3x3 se riusciremo a giocare carte della stessa classe o professione ogni carta è associata a due colori e riusciamo a metterli in riga o in colonna assieme dei colori uguali otteniamo dei bonus con i quali facciamo punti vittoria e la partita finisce oppena un giocatore ha 9 carte davanti a sé e lo si fa velocissimamente oppena un giocatore ha fatto 40 punti e anche quelli si fanno velocissimamente davvero una partita che si giochi in 2 in 3 in 4 in 5 tanto si gioca sempre tutti in contemporanea e a meno di qualcuno che alle pre partite legge tutte ste carte rimanendo un po' spiazzato una volta che si conoscono un po' le carte in 10 minuti voi avete tranquillamente giocato a hero le illustrazioni sono davvero molto molto carine ogni gilda ha la sua peculiarità è ben studiato anche il modo di rappresentarti queste gilde e come diceva albis noi abbiamo giocato in 2 in più di 2 e comunque quello che il gioco ti dà non cambia perché ti cambia a livello di punteggio se sei in 2 e vinci la battaglia fai determinati punti se sei in 3 lo fanno il primo o il secondo e non il terzo in 4 al primo e avanti così però poi ogni partita è diversa perché effettivamente comunque le carte sono molte e come decidi di combinare queste carte la partita cambia di volta in volta perché ci sarà la volta che cercherai o ti capiterà perché comunque tu le carte le peschi quindi non sai cosa ti arriva in mano giocherai un po' più sulla battaglia quindi spingerai un po' più su quel lato in altre partite cercherai ti ritroverai a puntare di più sull'andare avanti nella tecnologia nella magia e quindi sui punti vittoria quindi ogni partita è veramente a sé finita una io vi assicuro che ne volete fare subito un'altra perché è successo così sia tra di noi sia con noi più altri amici quindi è un gio funziona funziona tutto illustrazioni belle ti diverti dura poco quindi anche questo ha il nostro ok unica cosa di Hero è proprio un po' questa sua estrema rapidità deve andarti un po' bene nella pesca delle carte nel riuscire a incastrare le combo giuste quell'attimo prima degli altri perché il gioco accelera talmente in fretta che lo si chiude in pochissimi in pochissimi round quindi avere la fortuna di pescare le carte giuste al momento giusto fa la differenza e stessa cosa guardata un po' la tua mano iniziale lì capisci su cosa devi puntare e poi da lì non scappi cioè se in questa partita vedo ok ho già due carte che mi danno punti per il mio livello di magia ok le gioco in sta partita devo fare solo ed esclusivamente magia sta partita però vuol dire davvero ribadiamo quei 10-15 minuti quel giocare ancora altre 5 carte probabilmente nella speranza che scartando e pescando mi arrivino carte che mi fanno avanzare rapidamente sulla magia o che con i tris messi assieme mi facciano avanzare sulla magia prima che l'altro che magari sta invece puntando tutto sulla forza se si è messo 3 carte fortissime davanti e io so già che non lo potrò mai più superare e non potrò mai più fare quei punti lì lui invece magari si immagina punti con quello perché gli arrivano carte che gli danno punti ulteriori se vince i combattimenti quindi questo è l'unico aspetto un pochino da tenere comunque in considerazione non ha così tante strategie da portare avanti sono 2-3 e a seconda di come mi arrivano le prime carte in mano dovete capire quella e quella strategia e sperare di imbroccare le carte giuste per chiuderla ma il gioco davvero funziona è piacevole comunque può essere anche la partita dura comunque relativamente poco che rifacciamole un'altra ma si si ma infatti però si è vero tante volte magari tu ti risolverai non ho fatto ancora niente come che come è che si è arrivato a Filda cioè io non lo do via io lo tengo in collezione non sei chiaro quindi questo è il giudizio migliore secondo me per un gioco e finisce così la nostra settimana ludica ma prima di salutarvi come sempre vi ricordiamo che è uscito il nostro diario del giocatore da te lo prendere per oggi lo trovate su Amazon link questo in descrizione grazie perfetto regalo di Natale bellissimo i miei amici giocano hanno già tanti giochi cosa gli regalo se poi non gli piace e poi magari spendo tanti soldi per un gioco che poi si rivendono il diario il diario questo non perde anzi aumenterà di valore negli anni avere la prima edizione del diario del giocatore da tavolo e poi potrete dire io c'ero comunque lunedì è uscito il nostro gameplay di Fairy Ring gioco che ha diviso un po' per chi l'ha visto ha diviso un po' nei commenti c'è chi è piaciuto molto chi l'ha trovato un po' troppo banalotto quindi andate a vedere fateci sapere anche la vostra invece mercoledì è uscito il gameplay di Tree Society il primo gameplay che abbiamo registrato con questi nuovi microfoni e si vede che qual è il risultato però vabbè andatelo a vedere non l'avete visto? andatelo a vedere perché almeno fa ridere mettiamola così e signore e signori noi vi ringraziamo davvero per essere stati con noi vi ricordiamo di lasciarci un like se tutto ciò che facciamo un pochino vi piace vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare i Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi ciao ciao